Il derby di Lega 2 di basket tra Progetchieti e Roseto in diretta su Rete 8, canale 10 del digitale terrestre. Le furie da un lato, gli squali dall'altro, per un match che si annuncia entusiasmante. Appuntamento da non perdere, domenica 19 marzo dalle 18.30 con la telecronaca di Enrico Giancarli su Rete 8, canale 10 del digitale terrestre.